Ciao a tutti amici di Mi Hand oggi ci è arrivato come potete vedere il nostro Alienware che già avevamo annunciato che sarebbe arrivato in questi giorni è stato molto atteso questa è la scatola perchè il computer si trova già nella sua postazione, adesso vi facciamo vedere più o meno come era settata la scatola allora, aprendola non abbiamo il solito discorso dello scatolone dentro, questa scatola dentro lo scatolone ma ci è arrivata direttamente così con il suo braccino qua, da tenere per tenere il computer lo abbiamo aperto allora, dentro trovavamo questo sottomouse diciamo, che a vederlo in video sembra molto plasticoso e brutto, invece è molto resistente e sembra di ottima fattura per provenire dalla Cina troviamo la manualistica dove qua sotto trovavamo direttamente il computer, infatti la manualistica era incastrata qua sopra come potete vedere c'è un simpatico logo sempre della Alienware ci sono alieni praticamente da tutte le parti e dentro troviamo diverse cose il software Alienware che consiste nel AlienFX e altri diversi prodotti il sistema operativo il sistema operativo Windows 8 64 bit utile e poi abbiamo le applicazioni con la Cyberlink Suite eccetera eccetera ovviamente troviamo anche della manualistica Alienware ma nulla di che perché un computer più o meno sappiamo tutti come usarlo abbiamo deciso di fare questa questa è la parte unboxing poi faremo altre recensioni sul 3D e sul PC vero e proprio come vi stavo dicendo la configurazione che abbiamo scelto contiene anche gli occhiali 3D dell'Nvidia i 3D Vision 2 come potete vedere che abbiamo già provato e già ci hanno dato parecchie soddisfazioni perché sono molto belli ma faremo un approfondimento perché merita un approfondimento dato che anche su questo nessuno ha ancora fatto un video qua dentro trovavamo adesso è vuoto ovviamente gli occhiali 3D e il caricabatterie che è dalle dimensioni molto generose e un po' particolare diciamo che è una lastra rettangolare che dopo vi faremo vedere nient'altro le due parti di poliestere per non far prendere botte al computer e nient'altro ora ci spostiamo sulla scrivania e vediamo il computer grazie a tutti grazie a tutti